ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi parliamo di balsamo labbra voglio farvi vedere tutti quelli che ho e farvi una piccola recensione per ognuno di questi li conservo in questa bellissima bustina ma direi di partire subito voglio iniziare da due balsami labbra della labello e che ho comprato recentemente sono quelli che hanno la funzione scrub uno è alla rosa canina e l'altro è all'aloe vera tutti e due dovrebbero avere una funzione esfoliante e idratante dico dovrebbero perché su di me non hanno avuto granché effetto questo si presenta esattamente come un normalissimo balsamo labbra rosa e questo invece è azzurro se osservate bene la superficie cosa che ovviamente adesso non sarà possibile per via delle luci comunque potete notare che è un pochino più ruvido quindi l'effetto scrub in teoria ci dovrebbe essere però sulle mie labbra questo non è avvenuto nel senso che per me sono stati due balsami labbra esattamente normali come altri quindi sono stati idratanti ma questo effetto sfogliante nel mio caso non c'è stato sono comunque cose soggettive perché dipende dal vostro tipo di labbra sul mio tipo di labbra non hanno avuto questo effetto e sfogliante quindi devo dire che sono rimasta abbastanza delusa in ogni caso li utilizzerò come dei semplici balsami labbra quindi magari d'estate al mare per idratare oppure d'inverno quando fa molto freddo oppure semplicemente alla sera prima di andare a dormire se voglio idratare le labbra però mi aspettavo qualcosa di più mi aspettavo proprio che ci fosse un effetto scrub vero e proprio ma in realtà nel mio caso non è successo due balsami labbra che invece mi sono piaciuti tantissimo e che vi faccio vedere insieme perché sono della stessa linea sono questi di veroscemi sono stati regalati a natale facevano parte della linea in edizione limitata questo è alberi incantati e questo magia della neve mi sembra o stupore della neve adesso non mi ricordo il nome preciso però comunque erano quelli nella confezione verde russa questi mi sono piaciuti tantissimo soprattutto come profumazione questo alberi incantati è leggermente più selvatico forse non saprei descriverlo bene ma è l'impressione che ho avuto io questo qui invece rosso è un pochino più delicato quindi forse mi è piaciuto un pochino di più però entrambi hanno avuto uno spettacolare effetto idratante dico spettacolare perché davvero mi hanno idratato tantissimo le labbra soprattutto nelle giornate più fredde questi mi sono proprio piaciuti tantissimo poi sempre di verosce ho questo balsamo labbra al lampone questo è anche molto rosso però poi in realtà non colora le labbra se lo fa lo fa proprio appena appena ma non si nota e mi piaceva soprattutto il profumo al lampone poi sempre di verosce ho preso questo alla vaniglia che ho preso più che altro per la profumazione alla vaniglia però devo dire che comunque il suo lavoro lo fa perché poi l'effetto idratante c'è almeno sul mio tipo di labbra lo faccio vedere anche all'interno però è bianco essendo alla vaniglia comunque devo dire che mi piace tantissimo poi un altro burro cacao con cui mi sono trovata molto bene è questo che però ha una funzione un pochino diversa questo è della hawaiian tropic e la funzione diversa sta nel fatto che ha un fattore protettivo per il sole di 30 quindi è molto molto protettivo io questo lo utilizzo solo d'estate quando sono al mare è semplicemente un burro cacao come gli altri quindi a stick non ha niente di particolare è in sapore quindi non ha assolutamente profumazioni o sapori particolari però è davvero molto idratante quindi se quando sarà estate andrete al mare io vi consiglio comunque di provarlo perché ha un fattore protettivo molto alto idrata le labbra e fa veramente benissimo il suo lavoro mi sono trovata benissimo anche con questo balsamo labbra della vivi verde copp un altro stick normalissimo senza particolare profumazione o sapore una volta che lo appoggiate sulle labbra però devo dire che ha un potere idratante molto elevato soprattutto in inverno quando fa molto freddo ma anche d'estate quando fa molto caldo che magari siete un po disidratati quindi le labbra ne risentono questo devo dire che viene molto in aiuto lo trovate alla copp costa anche abbastanza poco quindi insomma è sicuramente un ottimo prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo poi un balsamo labbra al quale sono affezionata che mi piace tantissimo è questo di bottega verde al cocco questo mi piace soprattutto perché ha il profumo di cocco quindi quando voglia di sentire sulle mie labbra questo sapore di cocco lo utilizzo è idratante anche questo quindi il suo lavoro lo fa ma devo dire la verità io questo l'ho comprato soprattutto perché aveva il profumo di cocco poi una new entry è questo balsamo labbra della leocrema con acido ialuronico questo l'ho utilizzato poche volte per il momento però devo dire che l'effetto idratante non mi è affatto dispiaciuto anzi l'ho trovato molto buono come qualità quindi se volete provarne uno che abbia acido ialuronico sicuramente questo di leocrema è consigliabile questi sono tutti i miei balsami labbra come vedete non sono tantissimi però mi faceva piacere farveli vedere e dirvi molto brevemente che cosa ne penso fatemi sapere nei commenti se c'è una marca particolare che vi piace se magari me ne volete consigliare qualcuno io sono sempre curiosa di provare nuovi prodotti vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme